Il battesimo fa diventare figli adottivi di Dio. Lo ha ripetuto Benedetto XVI nell'Omelia della Messa, nella Cappella Sistina, in cui ha battezzato 13 bambini. Quando si battezzano i bambini introducendoli nella luce di Dio e dei suoi insegnamenti, ha detto il Papa, non si fa loro violenza, ma si dona la ricchezza della vita divina, in cui si radica la vera libertà che è propria dei figli di Dio. Una libertà che dovrà essere educata e formata con il maturare degli anni perché diventi capace di responsabili scelte personali. Il battesimo è il ponte che Gesù ha costruito con noi e per i genitori si tratta di riconoscere che un figlio è affidato dal Creatore alla loro responsabilità e fa fatto crescere in autonomia e non come se fosse un possesso privato della famiglia.